Didacta è la fiera fiorentina per eccellenza per quanto riguarda la formazione e la didattica. Ovviamente Forum è presente in questo caso come partner della regione toscana per quanto riguarda le manifestazioni di formazione, specialmente per formazione professionale e formazione dropout. Diciamo analisi e prospettive che arrivano da questa fiera. Sono molto contenta di essere presente oggi qua, ho partecipato adesso all'evento della regione toscana sul sociale europeo in cui si illustravano le buone prassi anche con esempi di corsi di formazione anche andati a confine. Anche i nostri corsi di formazione potrebbero essere benissimo rappresentati all'interno di questi eventi conclusivi che va la regione toscana perché la maggior parte si conclude con un esito molto positivo da parte di partecipazione dei ragazzi e da parte di esito. Anche perché appunto il placement di Forum in questi anni si è stabilizzato su delle percentuali considerevoli. Sì, dal 70% all'80% di probabilità dei corsi di formazione. A proposito appunto di placement abbiamo dei corsi di scadenza il 26 ottobre specialmente per i dropout. Sì. Se ce li puoi spiegare appunto, di dove stessa fuori? Il 26 ottobre scadono in termini di scadenza delle iscrizioni per i corsi per dropout nel settore dell'addetto alla ristorazione e dell'addetto per mid-out. Sono appunto i corsi gratuiti e finanziati a... I corsi gratuiti, finanziati al Fondo Sociale Europeo, biennali, rivolti a ragazzi minori di 18 anni che hanno abbandonato lo studio. E sono intenzionati a prendere una qualifica professionale. Infatti hanno scorsi molto pratici e hanno un considerevole monte orario di vista. In una pillola appunto, siamo a Didacta, fare formazione oggi per te cos'è? Investire sui giovani, sui ragazzi, su chi ha voglia di formarsi anche e di fare un lavoro per cui è importante. Grazie.